Oggi, seconda domenica di questo tempo di preparazione al Natale, è un tempo per riconoscere i vuoti da colmare nella nostra vita per spianare le asperità dell'orgoglio e fare spazio a Gesù che viene. Una voce grida nel deserto, preparate la via del Signore. Ogni valle sia innalzata. Le valli da innalzare rappresentano tutti i vuoti del nostro comportamento davanti Dio, tutti i nostri peccati di omissione. Un vuoto nella nostra vita può essere il fatto che non preghiamo, o preghiamo poco. L'avvento è allora il momento favorevole per riservare alla vita spirituale il posto importante che le aspetta. Un altro vuoto potrebbe essere la mancanza di carità. Siamo chiamati ad essere più attenti alle necessità degli altri. Vogliamo predisporci per la venuta del Signore, attenderlo ogni giorno con sollecitudine. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.